L'urlo della mannoia in un assoverato combattente. Un altro grande appuntamento alla Summer Arena organizzato dalla SM Musica di Maurizio Senese, che ha avuto come protagonista una tra le artiste più importanti e carismatiche in Italia. Ferella mannoia con il tour combattente, fattappa in una città che mai come quest'anno ha dimostrato di essere tenace quanto lei, di non mollare, di voler fare turismo in una terra difficile come la Calabria. Con la sua voce dal timbro inconfondibile, reduce dal successo del suo ultimo album, ha regalato al pubblico brani straordinari, come Che sia Benedetta, un vero e proprio inno alla vita, il secondo posto alla 67esima edizione del Festival di Sanremo, e Perfetti Sconosciuti, una delle canzoni più amate dai fan. Erika Cunzolo per la CNews24 Erika Cunzolo per la CNews24